MotoGP vince ancora Pecco Bagnaia, vince, stravince, convince, raggiunge 24 vittorie con la Ducati, nessuno prima di lui era mai riuscito a raggiungere questo obiettivo, quindi lui è entrato nella storia. E' un motociclista che può cadere, può risalire, può finire dietro ma può rimontare, non molla mai, intensità, tenacia, voglia di fare e voglia di vincere. C'è ancora tanta tanta fame di vincere e questo lo porta poi a raggiungere questi obiettivi importantissimi e che sicuramente gli permetteranno di giocarsi per l'ennesima volta la vittoria di questo mondiale. Auguri a lui e un saluto a tutti, vi invito sempre a cliccare in basso a destra, iscrizione al canale è gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!